E' qui per vedere i fuochi d'artificio. Penso che non ti deluderanno. Versaglio acquisito. Inizio sequenza l'anno. Oh, Cristo sotto. Attenzione, questa non è un'esercitazione. Dobbiamo evacuare immediatamente l'edificio. Ripeto, non è un'esercitazione. Se non fermi con i ragazzi morirà un sacco di gente. E tra quella gente ci sono anch'io. Un agente si è unito al gruppo. Alimentazione secondaria lanciarazzi attivata. Seguenza lancio avviata. Un cittadino sarà uno di quei ricordi da conservare. Era un sacco di tempo che non mi capitava. Abbiamo un tasco a terra qui. Sei venuto a salvare il mondo, eh? Tu sì che sei... Alimentazione secondaria lanciarazzi attivata. Seguenza lanciarazzi attivata. Seguenza lancio avviata. Siamo girati. Arrivano! Ora mi stai facendo incazzare. Puoi proprio scordarti una morte veloce in dolore. Allora! Allora! Siamo girati. Allora! 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 mi verna fai rapporto mi verna rispondi mi verna cazzo malfunzionamento del sistema sistema attivato i cilindri di antivirale sono al sicuro faremo in modo che vengano estrati senza problemi signore ci sono degli elicotteri nemici in arrivo dobbiamo abbatterli negativo non sparate non dobbiamo colpire i cilindri beh un colpo di fortuna agente hai recuperato gli antivirali e neutralizzato una roccaforte chiave dei black tusk senza contare che hai sventato un attacco missilistico alla base operativa gran bel lavoro agente davvero magnifico ma c'è ancora molto da fare un agente ha lasciato il gruppo nuovo agente nel tuo gruppo un agente lascia il gruppo